Il tema della tutela delle concessioni demaniali e della salvaguardia di centinaia di imprese balneari in Calabria, messe a rischio dalla recente sentenza del Consiglio di Stato che è disposto di rimettere in gara le licenze a partire dal 2024, è stata al centro dell'Assemblea del Sindacato Italiano Balneari, convocata per sensibilizzare soprattutto la classe politica rispetto alla necessità di difendere un comparto importantissimo per l'economia nazionale e regionale, costruito sul lavoro di tante piccole realtà a conduzione familiare che vedono a rischio il futuro e gli investimenti fatti negli anni Abbiamo chiesto al governo di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza queste famiglie, per mettere in sicurezza la balneazione attrezzata italiana che è un elemento di vantaggio competitivo del nostro paese nel mercato internazionale delle vacanze, è ingiusto che sia tolto il lavoro e le aziende a chi le ha costruite dal nulla, ma sarebbe una scelta rovinosa per il nostro paese togliere il lavoro a chi lo sa fare per darlo a chi ha più danaro questa sarebbe una scelta oltre che ingiusta, una scelta sbagliata da un punto di vista proprio economico. In Calabria parliamo di più di 3.000 concessioni di attività nautiche, stabilimenti balneari, campeggi e attività ricettive, è il mondo del nostro turismo perché il turismo balneare calabrese è quello che in percentuale è pesante sull'offerta turistica generale e noi difendiamo la peculiarità delle nostre aziende guardate, chi non conosce i sapori, i saperi, la storia, la cultura di quella zona come può accogliere il turista e coccolarlo come facciamo noi e indicare quale sono le peculiarità di quella zona ecco perché questa sendenza, la Bolkestein in generale senza una doverosa tutela degli esistenti mette in discussione la storia di questo paese. All'assemblea sono intervenuti in rappresentanza della giunta regionale la vicepresidente Giussi Prince e l'assessore al turismo Fausto Orso Marzo. Noi come regione stiamo preparando una delibera non possiamo altro che sostenere il governo nel fare nel modo più veloce possibile come la legge 145 aveva provato a fare non sappiamo se ci sarà, si parla di ricorsi contenziosi rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato adesso ma al di là del Consiglio di Stato bisogna mettere una parola fine, chiara perché essere concessionario o meno a determinate condizioni presuppone l'idea non solo di programmare investimenti privati quindi noi immaginiamo per quanto riguarda la Calabria lì di sempre più con piani colori insomma meglio organizzati anche come qualità del lavoro ma impedisce anche a noi come ho fatto nella scorsa stagione di prevedere investimenti pubblici.